terzo megavideo terzo megavideo terzo megavideo little big workshop ragazzi dai continuiamo immediatamente perché ci passa un sacco di tempo velocemente sto gioco fichissimo guardate qualche dita incredibile ah vedi che c'hanno i pezzettini piccoli dove fanno le cose sbagliato allora in teoria qua no l'aria disegnata è questo sono così e vediamo come come succede allora vi ha lasciato l'altra volta che ho considerato il contratto mercato a lui vuole due giorni crea piano questo qua questo non posso farlo da altre parti è pieno di lavoro lo vernicia qua si assolutamente si vai un altro bel trofeo dai dai apriti scaffale grande caspita sono i 15 scaffali grandi che mi danno fastidio dai ciccio non c'è nessuno nessuno gli dà una mano no 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 ma vedi feli che però se faccio così fanno molto meno strada loro non serio che mi ha portato quei due robini devo far 15 cavallini e lei invece lì non so perché salterei dai un giorno credo che questo riusciamo a farla in poco tempo era bravo via tinteggiare devo essere sincero allora in teoria mi mancano curca ma c'è legno per tutti il problema può avere anche lo spazio è bravo anche lei a tinteggiare però deve andare a farsi il caffè la lanciato la lanciatola incredibile dai che ne manca uno ragazzi consegnabili ah quello era scarto sono riuscito a fare anche lo scarto incredibile dai 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 raga non avete lasciato uno fuori ce n'è uno 4 mil lozzi ok perfetto raga mercatopoulos allora la base lui non c'ha più niente da darci vediamo se c'è qualcosa che sta crescendo questa seggiola la seggiola era quella che non riuscivo a fare raga era quello incasinato che non riuscivo a fare ci siamo su tutto tranne gli attributi quindi no assolutamente no non lo voglio fare e se facciamo il tavolino 700 il tavolino tra la strada si facciamo prima la formace per chiuderlo qua c'è un problema non soddisfa gli standard 5 6 7 8 9 10 11 3 1 8 9 2 6 così soddisfa così soddisfa quantità quantità 20 30 esegui dai dai raga dai raga vedi 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 ma ma tutti e tre pausa caffè eeeh vabbè dai raga eeeh vabbè dai raga eeeh vabbè eeeh vabbè di legno intanto lo stanno facendo eeeh vabbè eeeh vabbè eeeh vabbè ok 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 scegli i materiali ok postazione no postazione questo e questo perfetto perfetto un rastrello fatto no ti prego ah no non era la strada era una pala ma per qua mi si stanno ci passano un po' pelo eh ma fa tutto lei dai ragazzi montate si potete anche portarlo di la però eh beh adesso va bene tutto ma beh cioè io l'ho fatto per velocizzare ma ragazzi voi potete portarlo anche qui eh una volta finita la strada di cioè adesso voglio dire allora se prendiamo un trasportatore voglio proprio luigi ferretti vedere che cosa fa oltre a bere caffè a gigillare Luigi Che stai a fare? Luigi Vai che ti licenzio Sposta i rastrelli Incredibile Prendi la gente a lavorare Sposta i rastrelli dall'acqua Allora Aspetta Migliora la gestione Grazie a ambienti specializzati Assolutamente si Allora Sblocca i macchinari Invece la produzione di legno Come torni Sega Nastro Sblocca il nuovo set di strumenti Di questo quale Per creare Nuovi muri Porte Per la tua fabbrica L'uso di materiali Cosostenibili Io direi che Ok Oh Telefono Rappresenta Svecchia Mondiale Di mobili Stiamo cercando Nel nostro fornitore Ci serve una piccola quantità Di partiti di legno Va bene La creiamo piano prima Perché Se non riusciamo a farlo Cacchio di scappari Urca loca Cacchio Dovrei avere un altro banco Manco Allora I contratti Ragazzi Massima priorità Anche se io I rastrelli L'avevo quasi finiti Io voglio vedere Che cosa fa Luigi Luigi non fa un cacchio Eh si Ciao Luigi Andato Andato Niente Luigi Sarai anche una brava persona Ma per questo lavoro Non ci siamo Allora Assumiamo Un operatore Flavia dai Vai Luigi Sì ragazzi Ma non potete fare sta cosa C'è qui il banco di lavoro Dai Eh Eh Ah forse Ok Questa però Bisogna che poi L'asporta No 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 Questa è questo E questo E basta Perfetto Questa è la zona Esportazioni Ok Esportazioni Perfetto Così almeno lui sa Che le cose Oh Che spostano Perché Ecco 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 Che poi tra l'altro Se mi facevate Allora Bisogna dargli un po' fuoco C'è la La svecchia Che è Una ditta Internazionale Che ha bisogno Questo bancone Scassatissimo Ecco intanto Che questi qua Così Almeno mi lavorano Un po' Allora Ragazzi Oh dai Dai Ripara Sto Robo Alla priorità Ragazzi Forza Dovevo aspettare Di finire I rastrelli Ragazzi La prossima volta Non mi frega Tanto rimane lì I Ok Ci stanno attento Anche i soldi Questi continuano Continuano Imperterriti A Bivaccare Sbivaccare Siamo in quattro A lavorare Sbivaccare Sbivaccare Anche i cosi No Gli altri Gli altri Eh I rastrelli I rastrelli Aspetta Peccato Che non si possono Vendere Dai c'è un altro E poi forse Porca loca Ancora Tutto col martello Ora si mette a posto Anche le robe elettriche Devo provare A sistemare la pedaliera Del mio Logitech G923 Del volante A dargli mazzate Col martello Sulla plastica Penso che funziona Stando al giochino Qua Oh madonna Ma tutti che Bivaccano Ma poi tra l'altro Ma fate anche il rastrello Scusa Ah no Il rastrello è di La priorità Sì ma sta macchina Non lo stavano usando Ragazzi mancano tre giorni Però eh Io mi sto un po' preoccupando Ce l'ha fatto A fare sto lavoro Questa è della svecchia E' una dita Importantissima Multinazionale Con un sacco di sedi E' un lavoro importante Ragazzi Dovete muovervi C'è anche lui Che vuole Allora Vediamo un attimo Ovetto Pellet Ok Pronto per la preparazione Ma non adesso Ma non adesso Devo finire Lo scaffale Entro tre giorni Per il mio amico Svecchia Porca loca Se continua a scassare il tavolo Bisogna prendere un altro banco Assolutamente Aspetta un attimo No Allora Grazie mille Grazie mille Allora No, no, non è finito. Ok, c'è un punto di domanda, che sarebbe a nulla. Allora, se invece di farlo di qua... No. Potrei anche allargarmi di qua, eh, in teoria. Sì, assolutamente sì. Perché non me lo fa? E allora, niente, creiamo un muro in più. E ci mettiamo una porta. Allora, forse ho capito perché. Ancora c'è un po' sta roba. Forse... No, no, forse... Ho capito perché. Ok. No. Non ho capito perché. Allora, se io voglio creare una stanza... Ah, ho capito adesso. Ho capito. Forse... Ho sghiogabì. Dai. Così. Ok. Niente. No, probabilmente c'è qualcosa che non va. Che poi tra l'altro non ho neanche soldi per farla. Quindi stiamo calmi un attimo. Uh, dai 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 che sono pronte le seggiole. E riusciamo a consegnarle? Ah, mi stanno facendo anche i rastrelli. I rastrelli. Grandi. Il tipo qua sarà contentissimo. Eh, la svecchia. Grande. Ok. E adesso ci andiamo a vendere anche i rastrelli così facciamo fuori tutta la roba. L'unica cosa sono gli scaffali grandi. Ce ne abbiamo lì 15 e non si è ancora sbloccato il mercato. Le paperelle erano riuscite a sbloccarlo, eh? Ok, ok. Via, 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 via subito. Consegna. Consegna tutto. Ciao. Quei corriere. Grandissimo corriere. Oh, così si fa. Così si fa, ragazzi. Ah, non avevo creato piano? No, facciamo questa. Ok. Ok, camion che porta roba. No, ma non devi andare a polineria. Ma questa sta andando dal camion addirittura. A questo punto potevo farla con quella pressa qua che è qui vicina, cacchia, non la vado a messo. Ma allora posso fare una zona fuori per recuperare, per mettere i pelle? No, non posso. Quindi la possiamo far diventare una zona. Questa mi sa che devo farla diventare zona di uscite e basta. A meno che la ridimensiono, mezza di uscita. Allora, ho 8000, eh. Vediamo un attimo di capire. Ok. Sposta. Perché non posso costruire a casa mia? O non posso farlo proprio. C'è una cosa che non posso fare adesso a questo punto del gioco. Mi sbloccherà più avanti. Dai, dimmi che servono le mele, insula. Oh, i rastrelli? Ma c'è questo, eh. Eh, lo faccio subito appena finiamo sti, sti, cinque sgabelli, dai. Ho 19 ore, eh. Cazzo, mi da questo mi lascia sempre poco tempo. Poco, poco tempo. Dai, tipa. Mi lascia sempre poco tempo sto, sto fornitore qua, eh. Allora, per tre dovrei riuscirci. Oh, madonna. Devono anche andare a far 100.000 cose e lasciano la roba lì, oh. Jimbe. 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 È il tamburozzo, eh. La pelle. Ci mette la plastica. La foto è di plastica, eh. Teoria dovrebbe essere di legno. Vai, consegniamo subito. Oh. Non vedo l'ora. Dai, tutti quanti a portargli dentro la roba sul camion. Ma chi l'ha rimesso lì? Perfezione. Perfezione. Allora. Ok. Questo. Ok, quindi abbiamo tutto. Abbiamo 10.000. Devo riuscire solo a capire. Ok. Questo ce l'abbiamo. Ok. No, 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 no. Per quale smotivazzo. C'è anche una postazione qua. Ok, va bene. C'ho, c'ho. Li voglio fare? No, uno. No, uno. No, uno. C'è uno. C'è uno. E venti, dai. No, non sei serio. Oh, raga. Dai. Aspetta, ho capito l'ora. No. Machado. Non. 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 ok perfetto zona oh cacchio ma dove me l'ho lasciato? ahahah ah che forte ah incredibile fortissimo c'è tutto le scatole l'ho lasciato lì no come buttate via? oh ma belli questo è un banco di lavoro uguale a quello lì hanno più zona relax c'è manco manco ci paga il carburante per una pala grazie 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 ma adesso dovrebbe arrivare il tipo a incominciare a farmeli eh verde per esportare bianco per lavorare e giallo quando arriva il camion di roba eh vediamo un attimo che cosa serve oh vuole questo? creiamo il piano? ce l'abbiamo già al piano cacchio cacchio quello lì vuole sempre cose extra eh? grazie 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 allora questi giochi ragazzi non so a voi ma a me fanno impazzire mi diverto troppo allora in realtà siamo un po' troppi c'è il trasportatore lì che devo curare che cosa fa perché sinceramente beh che dopo dovete fare anche l'altra aspetta però ho sbagliato io perché se la palla la facevo costruire nell'altro sinceramente consegnabile grande con sopra in tre per festeggiare il nostro aumento di livello grande ma vuole questo urca allora questo non c'è problema esattamente possiamo ah vedi che stronza però ok allora possiamo farlo possono fare anche più cose c'è anche quegli scaffali grandi ragazzi ci hanno portato via un sacco di spazio nel magazzino adesso lo sta dipingendo bravissimo si via 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 subito consegna grandi un po' di soldini eh io ho quelli scaffali grandi non voglio venderli ragazzi è più forte di me ok qui no i rastrelli c'è ancora 20 eh oh le paperelle vanno sempre e se ne facciamo 10 15 15 no ok 20 vediamo dai forza forza cammincino ok allora 5 allora questo ha la priorità eh vediamo anche un po' fuoco ok eccolo qui eccolo qui la problematica perfetto troppa gente che non ha energia bravo una paperella e un colpo di qui e un colpo di là bravissimi c'è un sacco di roba dai che ne manca uno sta salvando perfetto consegna intanto vi stiamo anche colorando le paperelle abbiamo bisogno di soldi raga c'è le sedie da parte di Sven anche bravissimo bravissimo questo che cosa questo non ha più mercato ah cacchio Sven le sedie la sedia già non ce l'ho riuscito ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Peccato che non si può... Grazie a tutti. Allora, questa parte faccio un po' fatica a capirla, ragazzi, perché non mi dà delle indicazioni precise. Ho bisogno queste cose. Ok, e quindi questo qua, a meno che... Ok. 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 Questo... Porca loca... Ci sarebbe solo le ali qui... Le alette... Ok. Questo... Ok. 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 Ci manca... Cacchia... Non ci credo... Non ci credo... Se l'abbiamo fatta... Ce l'abbiamo fatta... Ce l'ho fatta, ragazzi... Non ci credo... Sedia semplice... Priorità... E' fuoco, ragazzi... E' a fuoco, ragazzi... E' a fuoco, ragazzi... Ok. Wow, questo si che è... Pianification... Lo scaffale... Non ce la facciamo proprio, eh. Le paperelle ne mancano poche e poi possiamo venderle. Sperando che non si chiuda il mercato e ce lo prendiamo in quel posto, eh, con le paperelle. Allora ragazzi al prossimo video Perché Non so se riesco a farvi vedere No credo proprio di no Allora quindi io interrompo ci vediamo al prossimo video Ciao mi raccomando di seguire il canale Su youtube, facebook, twitter, instagram, tiktok, twitch E mi raccomando Assolutamente Di seguirmi su twitch Ore 21 tutti i giorni Sabato e domenica alle ore 3 anche faccio 2 live A meno che ho qualcosa da fare ma scrivo sempre Se ne faccio o non le faccio Quello che porto su facebook, instagram, tiktok, twitch e discord Ok mi raccomando ragazzi Quindi poi porto tutte le live su youtube E mi raccomando di seguirmi Di mettere un bel mi piace Sui video, di commentare E assolutamente iscrivervi al mio canale youtube Ciao ragazzi alla prossima Con questo gioco che secondo me è fantastico E al prossimo video vi farò vedere Se siamo riusciti a Soddisfare svecchia Ciao ragazzi Ecco un po' di suspense Un po' di suspense Amici vi avevo lasciato Col video a metà Perché avevo finito i 50 minuti Quindi Non sappiamo se riusciamo Effettivamente a consegnare a svecchia Oppure no Invece Secondo me ce la facciamo I nostri operai Stanno lavorando bene Stanno lavorando bene Diciamo che La macchina del caffè E delle bevande Sta incominciando A Sta incominciando No La macchina del lavoratore Inventario Strumenti di analisi Ma dove c'è Bravo Bello Mercato Negozio A Macchinari nuovi Questo che cos'è Un cibo e legno Con precisione meccanica Wow Costano eh Questo che cos'è Non ce l'abbiamo la postazione In collagio Ma io non ho proprio il posto Amici Per mettere tutta sta roba Fighissima Buuu- Buuu- Buu- 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 Penso di averla messa al contrario Sì assolutamente sì E l'ho messa al contrario ancora Porca loca Consegniamo immediatamente mi ero perso Consegna subito Anche l'altra è consegnabile Muoviti Perfetto Adesso arriva l'altro camion Di svecchia Forza ragazzi sedie Oh è anche svecchia È stato soddisfatto ragazzi Grande svecchia Allora bisogna capire Una cosa Una cosa Una cosa Perfetto